Due migranti che insieme ad altri 88 avevano tentato di raggiungere Lampedusa su un gommone sono morti questa mattina per grave ipotermia a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera italiana che le aveva soccorsi in mare. Il gommone, in difficoltà salpato dalle coste africane, era stato avvistato nel primo pomeriggio di ieri da una nave della Marina Militare italiana, il cui equipaggio aveva prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo della Guardia Costiera. I 90 migranti sono stati quindi trasferiti sulla motovedetta. Molti avevano vestiti bagnati, erano in negative condizioni di salute a causa del freddo. Due entrambi uomini, nonostante l'assistenza prestata dagli uomini della Guardia Costiera, sono morti per un grave stato di ipotermia dovuto alle molte ore trascorse sul gommone in condizioni di precarietà durante la navigazione verso Lampedusa, dove l'unità è giunta in mattinata. Della vicenda è stata informata l'autorità giudiziaria. Come sempre accade in questa stagione, gli sbarchi si sono intensificati. In appena due giorni, sulle coste siciliane, sono arrivati oltre 500 migranti.